I servizi per la digitalizzazione hanno investito numerosi settori economici, compreso quello delle agenzie funebri. Ne parliamo oggi con i responsabili di un'agenzia funebri di Oristano, Alberto e Massimiliano Melis, titolari e responsabili di una storica agenzia funebri della città, Sarda. Alberto Melis, ci puoi raccontare lo stato dell'arte nel mondo delle oneranze funebri legato al digitale? Sì, questo settore è stato investito in maniera importante dalla tecnologia che ha portato benefici non solo per le agenzie funebri ma anche per i congiunti che usufruiscono di questi servizi. Quindi è diventato anche un po' un mestiere che va al passo con la tecnologia e con i tempi e che offre servizi innovativi. Ecco, hai parlato, Alberto, dei servizi che sono stati portati dalla rivoluzione digitale. Ci puoi raccontare? Sì, penso all'introduzione di gestionali complessi che permettono anche di svolgere il lavoro in maniera molto più veloce, rapida con quasi l'eliminazione dell'errore. Quindi questo permette anche di dedicare molto più tempo alla gestione del cliente, al supporto del cliente. Quindi sono dei servizi che permettono anche alle persone di partecipare al dolore dei parenti del defunto con messaggi di cordoglio, stando vicini anche non potendolo fare di presenza. Ma i messaggi di cordoglio come possono giungere ai familiari del defunto? Allora, sono state sviluppate delle applicazioni scaricabili nello smartphone da dove si può partecipare al dolore dei parenti con dei messaggi di due firma e dove si può anche usufruire di tutte le informazioni relative al servizio funebre. Quindi è anche un mezzo di informazione per le persone che vogliono partecipare al lutto. Massimiliano, mi sembra di capire che questo settore sta evolvendo davvero a vista d'occhio? Sì, anche il settore funebre sta avendo una grande evoluzione del giorno d'oggi e una delle pratiche sempre più diffuse è la pratica della cremazione. Nel momento del lutto una famiglia o comunque in generale un individuo ha bisogno che le sue volontà siano rispettate. E questo è un punto molto importante anche nella legislazione italiana. Per questo esiste anche un registro italiano cremazioni che permette di rispettare le volontà del defunto. Un servizio importantissimo che evita una serie di problematiche. Esatto, è un servizio molto importante. Noi abbiamo avviato una collaborazione con questo registro a livello nazionale. Questa collaborazione ci permette di raccogliere le volontà del defunto e quindi sgravare anche in un certo senso i familiari nel momento del lutto. Oltre alla cremazione in sé, possono essere garantiti servizi anche come quello della dispersione delle ceneri che è un'altra pratica sempre più diffusa al giorno d'oggi. Con questa nostra collaborazione riusciamo a garantire anche questo. Dunque cambiamenti digitali ma anche culturali che hanno investito un settore molto importante come quello delle onoranze funebri. Alberto e Massimiliano Neris, grazie mille per il vostro tempo. Grazie a voi. Grazie.